Lavoro in corso alla Basilica di Gandino, che cosa si sta facendo? Sì, è difficile non notare la elevata gru che ha una 30 metri di altezza e uno sbraccio di 40 metri. Si cerca di raggiungere tutti quegli spazi che riguardano la copertura del tetto, non interessata da due interventi precedenti. Il primo, dieci anni fa, sul Tiburio. Il progetto era di Don Emilio Zanoli, mio predecessore, e abbiamo potuto avviarlo appunto nel 2011. A parte un secondo intervento di certe entità realizzato lo scorso anno sulle falde vicine alla controfacciata, ora rimane tutto il resto della copertura. In sintesi si tratta della rimozione del manto attuale, compreso l'assito, che è in abete molto logro, sostituito con assito in larice, su cui verrà messo un bicoppo, e soprattutto questo verrà riproposto il coppo vecchio, come richiede la sovrintendenza, come è giusto che sia. Ovviamente è legato l'uno all'altro, in modo da non dover fare interventi di manutenzione troppo frequenti. Come è stato possibile finanziare l'intervento? Ovviamente, conoscendo l'importo considerevole dell'intervento, avevamo partecipato a un bando del 2019 della Regione Lombardia, al quale non abbiamo potuto poi essere ammessi per mancanza di fondi. Lo scorso anno abbiamo avuto la bella notizia che potevamo essere rimessi in gioco, e così abbiamo dato la disponibilità della nostra partecipazione. Questo ci ha permesso di avere il contributo della Regione pari al 50% dell'importo sostenuto. Oltre a questo intervento, che è considerevole, la parrocchia sta affrontando anche altri progetti. A fine mese, quando ormai questo intervento sarà terminato, all'interno degli edifici del nostro Museo di Arte Sacra si trova una casa che sarà sistemata per consentire l'ospitalità di un sacerdote che verrà in pensione, un sacerdote gandinese, che settembre-ottobre, lavori permettendo, potrà risiedere in questa abitazione alla quale dovremo provvedere soprattutto per la copertura e la rimessa in ordine del primo piano. Accanto a questi interventi è previsto anche un intervento di restauro sulle pitture dell'abside della Chiesa di Santa Croce. È notizia proprio di pochi minuti fa, che abbiamo potuto prendere dal sito, di un contributo di 8.000 euro dalla Fondazione Comunità Bergamasca Onlus, che ringraziamo ci consentirà di dare avvio a questo lavoro che attendiamo da diversi anni. Siamo a Gandino, siamo nell'unità pastorale di Barzizia Cirano e Gandino e quindi le chiese sono 15, immaginate quanti possono essere gli interventi che si accavallano. Nel frattempo stiamo anche considerando con il Consiglio parrocchiale per gli affari economici di Cirano di sistemare anche la copertura in parte, ma soprattutto le facciate e i serramenti del centro pastorale di Cirano, in particolare dell'appartamento che fino ad oggi, fino a pochi anni fa, è stato occupato dal parroco di Cirano. Grazie.